Nel mondo del gossip, un fatto accaduto in diretta ha scatenato il caos Alessia Marcuzzi citata in giudizio per le sue dichiarazioni esplosive durante una trasmissione in diretta. Alessia, visibilmente pentita di aver rivelato un oscuro segreto, ha fatto una rivelazione scioccante in diretta TV. Quali erano? Iscrivetevi al News Gossip World, il vostro canale sul gossip del momento. Commentate e condividete sui vostri social preferiti il più possibile. Grazie. Lo scandalo ha scosso gli spettatori quando Alessia ha accidentalmente svelato il suo misterioso affare. La banca d'Italia ha chiamato in fretta e furia, chiedendo l'interruzione immediata del programma. Tuttavia, i telespettatori attenti hanno subito cominciato a inviare messaggi frenetici durante la trasmissione, chiedendo dettagli sulla sconvolgente rivelazione. Fortunatamente, una copia della registrazione è stata ottenuta di nascosto dal programma che tempo che fa. Alessia Marcuzzi ha sostenuto con fermezza che c'è un modo per diventare incredibilmente ricchi senza dover lavorare duramente, grazie a un misterioso sistema di trading online, di cui non facciamo il nome per evitare pubblicità, ha persino convinto il conduttore, Fabio Fazio, a provarlo dal vivo durante la trasmissione. Quando Fabio ha testato il programma, ha ottenuto un profitto inaspettato in soli 20 minuti, portando la cifra da 250 a 297 euro. Alessia ha promesso che con un investimento minimo di 250 euro, chiunque può guadagnare milioni in pochi mesi utilizzando questa piattaforma. Ma la sorpresa maggiore è arrivata quando Alessia ha suggerito che l'intero processo potrebbe essere completamente automatico, senza alcun sforzo da parte dell'utente. Questo ha scatenato un'onda di interesse e scetticismo tra gli spettatori. Tuttavia, prima che la situazione potesse essere chiarita, la trasmissione è stata bruscamente interrotta su richiesta della Banca Centrale d'Italia, temendo le implicazioni di questa rivelazione su scala nazionale. Alessia Marcuzzi ha continuato a sostenere che questa sia un'opportunità unica e ha incoraggiato tutti a registrarvisi al più presto. L'indagine su questa incredibile rivelazione continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso. Cosa succederà dopo questo tumultuoso scandalo finanziario? Commentate la vostra opinione, iscrivetevi e restate sintonizzati per ulteriori sviluppi.